e non ultime le stesse gare di appalto a massimo ribasso. Ritengo che difendere e tutelare il nostro lavoro, professionalità e la qualità delle nostre estranze non rappresenti un'anacronistica forma di protezione, ma un preciso diritto e dovere della classe dirigente e del Governo nazionale. Chiedo pertanto e concludo allo stesso esecutivo, che in verità si è già attivato sulla vicenda, di rafforzare la vigilanza e richiamare le aziende al rigoroso rispetto dell'obbligo per l'operatore di comunicare da quale è stato parte la conversazione, di verificare l'obbligo per le aziende che vingono gli apparti di garantire la sua parte occupazionale, di lavorare, ho finito, realizzare un contratto unico del settore cancellando i contratti civetta e pirata. Grazie, grazie. Avete due minuti negli interventi di fine seduta e la Presidenza, se permettete, è piuttosto severa su questo. Onorevole Martelli, prego. Grazie, signora Presidente. In questo momento, davanti alla sede di poste italiane, stanno manifestando le lavoratrici della società Uptime, call center che lavora in via esclusiva per poste italiane. Le donne di Uptime, figlie di un consulter minore, stanno conducendo da oltre nove mesi e senza la luce mediatica una battaglia per la salvezza del proprio lavoro. Un'ennesima storia di precarietà che inevitabilmente si scaglia sulle donne, rendendole vulnerabili. Chiediamo, insieme a loro, azioni concrete per la salvaguardia del loro lavoro, che è pari alla stabilizzazione del loro progetto di vita. Azioni concrete per non aprire in questo Paese una stagione dove ci sono figli di diritti minori. Grazie. È scritto a parlare il deputato Parentela. Prego, ne ha facoltà. Grazie, Presidente. È vergognoso il fatto che anche quest'anno mancano i dati di ben cinque regioni, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria, relative al rapporto dell'ISPRA sulla contaminazione delle nostre acque da pesticidi. L'anno scorso, attraverso un'interrogazione parlamentare che vorrei sollecitare per avere risposta, la 407-843, avevo chiesto al Governo di sollecitare le regioni per fare in modo che le ARPA, in particolare per la mia regione e l'ARPACAL, facesse questi monitoraggi, rispettando un decreto di due anni fa in cui si obbliga a questi comuni sono tanti. Grazie.